...spettacolo delle tradizioni popolari e quindi a proposito di danze, nell'area del Mandrolisai c'è questo luogo meraviglioso, la terra che si ripete anche nei colori dei costume ed ecco Sorgono che arriva pronto nel senso Cucci e questo bel applauso caloroso che arriva da Sorgono da quell'area e a proposito di danza di cortecciamento vediamo come si sviluppa nel Mandrolisai vediamo come si sviluppa a Sorgono, sa danza Sorgono 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.